Se state riscontrando problemi riguardo a Black Meat Wukong che non si avvia una volta comprato e installato così su Steam o Epic Games direttamente sul computer e provi ad avviarlo non ti dà nessun segno di vita. Quindi in questo caso è possibile aggiornare un attimo i driver obsoleti che tieni sul tuo computer e vedere qual è il problema su questo gioco quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato così il link che ti porterà sulla pagina per scaricare il programma SDK di DirectX. La versione C++ ovviamente andremo a scaricare la versione per 86 questa qua e poi per aggiornare definitivamente i driver della tua scheda grafica o Nvidia o AMD per Nvidia c'è l'applicazione Nvidia App. Proprio ieri hanno rilasciato così un driver disponibile sulla scheda grafica Nvidia che aggiornerà anche e aiuterà anche il supporto su Black Meat Wukong. Quindi in questo caso vado direttamente a installare il driver del WC Redis x86 esegui come amministratore. Faccio ripristina perché lo tengo già installato però faccio ripristina e poi una volta installato devi riavviare il computer. Una volta fatto andiamo direttamente su Nvidia App Driver. Come puoi vedere c'è un aggiornamento che ho fatto per Black Meat Wukong attraverso i driver della scheda grafica Nvidia del 20 di agosto. Quindi prova a scaricare e installare questi driver e vedi se si avvia il gioco. Quindi a me non mi resta che installare il driver. E qua mi dice di riavviare il computer e faccio chiudi. Una volta fatto prova anche a rimuovere i file temporanei dal tuo computer. Quindi fai per cento tempo per cento. Rimuvi i file temporanei, quelli che ti fa rimuovere. E svuota anche il cestino. Chiudi un attimo qua. Fai su pulizia disco oppure scrivi direttamente disk e esce anche pulizia disco. Ed eccolo qua. Pulizia file di sistema. ed eccolo qua. Faccio ok. Eliminazione file. Quando ho finito così l'eliminazione di tutti i file e i file del registro. andiamo direttamente ad aggiornare anche la scheda grafica su gestione dispositivi. Scendi fino a giù fino a trovare le schede video. La tua scheda grafica. Aggiorna driver. Cerca driver nel computer. Scegli da un elenco di driver disponibili. Metto questa. Faccio avanti. E installo così il driver per la mia scheda grafica. Ovviamente come ho detto per NVIDIA c'è NVIDIA App. E per AMD. AMD Adrenaline Edition Software. E' come l'applicazione di NVIDIA. Ovviamente non ho una scheda grafica. AMD. Quindi non posso usare l'applicazione. Quindi non me lo fa installare. E' come questo pannello qua. Vai sul driver e aggiorni così. La tua scheda grafica. Una volta fatto. C'è l'ultimo driver da scaricare e installare sempre per DirectX. Ovviamente a me non supporta così questo driver. Però funziona. Perfettamente. Per quelli che non lo tengono sul computer. Quindi DirectX SDK. Questo download include la versione legacy di DirectX. che ha ormai raggiunto la fine del ciclo del video. Deve essere usata solo per gestire software. Meno recente. E scegli come target da DirectX per Windows 7. O versioni successive. Quindi ti consiglio di scaricare e installare quest'altro driver. Per altri problemi ancora. Puoi commentare sotto al video. C'è una playlist proprio su Black Meat Wukong. Come aumentare gli FPS. E come migliorare così le prestazioni di gioco. Come non crashare. Come non avere problemi di lag. Tutto nella playlist. Quindi grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.